Un tessuto sociale sano e la percezione di vivere in una zona sicura e esente da rischi di criminalità sono fondamentali per la competitività delle imprese e per la tranquillità dei cittadini e le marche, da questo punto di vista, non sono più un'isola felice, anche se siamo messi meglio rispetto alla media nazionale. Secondo i dati Istat sulla legalità e la sicurezza in Italia, elaborati dal Centro Studi CNA nazionale per la nostra regione, il 28,3% delle famiglie marchigiane ritiene di vivere in una zona molto o abbastanza rischiosa, contro una media nazionale del 33,9%. Inoltre, un marchigiano su tre si sente poco o per niente sicuro se si trova da solo in una strada poco illuminata, mentre il 15% ha paura di restare solo in casa la sera. Si abbassa drasticamente la percezione di degrado nella zona in cui si vive, solo il 5,9% dei marchigiani ritiene di vivere in una zona degradata, contro una percentuale più che doppia degli italiani, 12,1%. Il timore di essere vittima di un reato riguarda 6 marchigiani su 100, mentre sale al 19,7% la preoccupazione di subire una violenza sessuale. A rispetto del forte allarme sociale, nel 2017 il numero dei delitti nella regione Marche è diminuito con 3.036 ogni 100.000 abitanti rispetto ai 3.659 delitti del 2012. La media nazionale è stata di 4.014 delitti ogni 100.000 abitanti. Ma se da un lato diminuiscono i furti, meno 22%, le rapine, meno 18%, le ingiurie, meno 97%, le minacce, meno 24%, sono in aumento i crimini contro l'economia. Tra questi rientrano le truffe e le frodi informatiche che sono aumentate tra il 2012 e il 2017 del 40%, mentre per fortuna a diminuire sono state le contrappazioni di marchi e prodotti industriali, crollate al 49%. Ma per quali reati sono preoccupati i marchigiani? Al primo posto vengono i furti in abitazione, temuti al 60% dei residenti nella regione. Subito dopo viene il furto della propria automobile, che è un incubo per 38 marchigiani su 100, mentre il rischio di subire una rapina è presente nei pensieri del 35% e gli scippi angustiano il 34% dei nostri concittadini. Il timore di subire una violenza sessuale, oppure che la subisca un familiare, viene denunciato dal 19,8% dei marchigiani, una percentuale che sale oltre il 50% tra le giovanissime.